Sono con Giovanni, da Florence, dall'Italia, che è venuto a vedere il Real Madrid. Giovanni, qual'è la tua opinione su questo gioco? Il Real Madrid è fantastico, ho davvero piaciuto il gioco, giocano molto bene, mi piace Cristiano Ronaldo, Benzema... davvero buono, davvero buono. Il tuo primo gioco a Bernabéu? Sì, il primo gioco a Madrid, mi piace la città, è incredibile. Il stadio è fantastico, davvero fantastico. Ma l'ambiente dentro del stadio ha sorpreso a te, le persone sono un po' nervose? No, no, no. Tutti era bene, hanno davvero piaciuto il gioco. È un po' diverso in Italia. In Italia è molto fredda, la gente è fredda. Qui la gente è molto calda, molto calda, hanno davvero piaciuto il gioco. Anche con gli altri giocatori della Real Sociedad, vedo che tutti sono molto calda. in Italia non è così. Ok, un buon gioco tra i due fanno. Ma il tuo gioco preferito è Cristiano, hai parlato? Sì, sì. Cosa crederai quando ha perduto quella penalti? E quando ha perduto quel gioco? Penso che il gioco potrebbe cambiare in questo modo. Real Sociedad potrebbe vincere il gioco, ma poi hanno giocato bene e poi hanno vinto il gioco. Real potrebbe vincere Roma in Italia. Cosa crederai che Real sia un grande favorito di Roma? Sì, Roma non è in un buon momento, quindi credo che Real potrebbe vincere. Potrebbe passare il gioco. Cosa crederai che Real potrebbe vincere questa liga? Sì, sì. Credo che non lo so, ma credo che Real potrebbe vincere. E Benitez ha un gioco in Italia, credo che sia un gioco buon gioco per Real Madrid? Io preferisco Mourinho. Io preferisco Mourinho. Giovanni preferisco Mourinho. Io preferisco... Bangal. Grazie molto Giovanni.